Azzacco partiglieria, coordinate Delta 4, eliminare Delta 4, ricevuto, aprire il fuoco Avanzare, ricevuto, avanziamo A ore 1, distanza 300 metri Somebody cover me We've captured most of the strategic zone Siamo stati colpiti Carro armato, a ore 12, in prossimità Attention to the map La voce a la finita Siamo stati colpiti Siamo stati colpiti Siamo stati colpiti Siamo stati colpiti Biografi Asi voline Siamo stati colpiti Siamo stati colpiti E' eliminare! Delta! Due! Ricevuto! Aprile il fuoco! L.I. Forza is captured as owned! L.I. Forza is captured as owned! Attention to the designated grid square! Caricatore primo licenti! You're lovin! Stκαmp! Air! 살� gotten stat complet! Air! One zero! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.